Violetta ha la possibilità di conoscere anche per solo un momento, anche perché sa che durerà poco tutto questo, durerà niente, durerà niente, un attimo, l'amore. Per la prima volta sa capire che cosa vuol dire amare e per questo momento sacrifica tutto, sacrifica tutta la sua vita perché è un momento di grazia speciale che lei riceve. Alla fine lei appena prima di morire rivede Alfredo, rivede il padre, per un momento ha l'illusione di aver ritrovato una famiglia che non ha mai avuto un marito, un padre, ma tutto questo non arriva mai perché la morte annulla tutto questo.